Come rilanciare e valorizzare l'area del cratere sismico abruzzese? Come trasformare una visione in realtà? La risposta è nella costituzione di una rete di 22 comuni sferzati da terremoto e alluvioni che si estendono su tre province dell'Abruzzo con una popolazione di 90.000 abitanti. Questa nuova rete si chiama Unico Gran Sasso e si appresta a rispondere alle esigenze delle aree interne attraverso un'associazione temporanea di scopo come il nuovo modello organizzativo a scala intercomunale. Alla presentazione che si è svolta al Parco della Scienza di Teramo è intervenuto anche il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. La riunione di oggi dei sindaci del cratere 2016 dà il via alla seconda gamba della ricostruzione, quella della rinascita economico-sociale. Abbiamo due strumenti formidabili a disposizione, conquistati con la legge di bilancio e con il PNRR, il contratto istituzionale di sviluppo che va varato subito, entro il mese bisogna presentare i progetti, i comuni devono presentare i progetti e poi il fondo complementare per le aree colpite dal terremoto sia il 2009 che il 2016. Un miliardo e 800 milioni in sei anni che rappresenteranno una risorsa straordinaria per poter finanziare, sostenere progetti di sviluppo. Anche qui occorre dinamismo, occorre progettualità, occorrono idee, occorrono progetti. Tanti fondi che arriveranno per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico abruzzese, denaro che inevitabilmente attirerà cosche e mafie. Necessaria dunque una stretta sorveglianza alla legalità. Attiviamo finalmente tutti i presidi possibili, oltre a quelli che già c'erano, intendiamoci strutture di missione del Ministero degli Interni, l'opera, l'attività preziosissima della DIA, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura. Attiviamo i controlli di legalità nei cantieri, con il badge settimanale dei cantieri, una piattaforma digitale dedicata che abbiamo già predisposto e che stiamo sperimentando. Capofila della rete Unico Gran Sasso è il Comune di Crognaleto, mentre coordinatore di Area Vasta sarà il Comune di Teramo.